mi vedono solo come una tizia da portare a letto con la migliore amica perché è perché non c'è la foto non possiamo dire perché 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 portare a letto vuol dire tante cose perché io magari se da portare a letto per coccolare tutta la notte quindi la domanda che non è chiara solo come solo o come tizia da portare a letto o la migliore amica perché oddio ho detto a letto con la migliore amica probabilmente perché lei cerca una via di mezzo che sia una relazione esatto forse dovrebbe frequentare persone diverse tipo e persone più introspettive me 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 ah vabbè allora ok un punto un punto per gialluca mi ha mollato mesi fa e ancora penso a lui come passa ma che te non ma vai avanti eh sì non è mesi fa ormai vai buttati no no next one vai allora cerca allora trova il tempo di portare te stessa esatto riscoprirti e buttati no buttati come se niente prova prova ma voi siete voi voi siete innamorati di la vita nella vita sì sì ma nel senso se siamo nella relazione cioè perché io volevo sapere voi come come a essere lasciati come reagite io quando vengo lasciato in maniera molto sobria tipo brucio casa no 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 di casa nostra che abbiamo perso insieme sì sì allora non è un'amicizia né una storia da sei mesi che cos'è per me la cipolla no però io una volta ho letto un articolo che dico soltanto per responsabilizzarmi che dice che al terzo appuntamento è già relazione ovviamente non intesa come fidanzamento però da un terzo appuntamento in poi già si può parlare di una relazione di un rapporto quantomeno io invece quindi è un rapporto di una perché devi definire un rapporto di più di più ma perché devi definire cos'è che sono te lo sti sta fai bene stai bene va bene grazie 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 allora sono fidanzata quasi convivente ma non mi piace per niente come opzioni suona suona le feste patronali e ottone non mi piace per niente come ottone è insoddisfatta sessualmente non le piace come troppo questo è il problema sono fidanzata quasi convivente quindi magari caratterialmente si piacciono secondo me consiglio serio parla devi parlare devi dire senti di questo ci sono delle cose che non mi piacciono probabilmente non si conosce nemmeno lui lei perché lei è un po' superficiale secondo me conosce esplorati esperisciti come si esplora esperisciti prova cose nuove tipo tipo ma tu c'ha a riscere ma tu c'ha a riscere ma Fabio tu c'ha a riscere esplorati e dici quello che vuoi non ti piace perché ma non ci capite che sono sti cose nuove non le piace come allora fatti agli altri no 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 si però trovate un compromesso secondo me si può trovare in una relazione un compromesso fate entrare ad altra gente si accetta all'ingresso anche di altra gente l'amore è liquido diciamolo i De Giacal sono per le relazioni poliamorose per le orge diciamolo andiamo avanti mi piace un ragazzo impegnato come risolvo Emily amica mia aspetta che finisce di lavorare no impegnato no no è già fidanzato no vabbè come risolvo secondo voi è come risolvo capisci le sue intenzioni perché se è impegnato e sta bene no ma io ma questo modo di mi piace un ragazzo è fidanzato ma io voglio sapere ma la gente c'ha veramente tutto sto tempo da pedra a pesa all'amore mamma mia che è che ho detto no io sono è un punto allora è un pareggio diciamo è un pareggio tra di voi allora un problema delle attuali fidanzate dei miei ex ex di lui più figa di me che fare? lavorare sulla propria autostima bene Gianluca questo è per te l'ultima oh ragazzi qua vi giocate tutto perché su Tinder devono subito spararti la foto del fringuello in chat ma su Tinder non si va per quello? no basta è finito? basta non è vero non si va per quello cioè ah perché tu sei un esperto no non ce l'ho però tipo colleghi che lo usano e che lo usavano soprattutto all'estero mi hanno spiegato che Tinder si usa anche semplicemente per fare amicizia eh amicizia Gianluca ma che però non si mandi il fringuello in chat no ma scusa ti posso mandare il fringuello? e poi in caso quella dice sì e lo mandi allora basta pensare poi insomma non sappiamo che cos'è questo fringuello nella maggior parte allora nella maggior parte dei casi quel fringuello corrisponde al selfie di chi lo manda ho vinto ho vinto ragazzi ho vinto aspettate che che cos'è questo fringuello? che cos'è questo fringuello? che cos'è questo fringuello? Grazie a tutti